Allora, sono due giornate di sport e andiamo a affrontare il circuito italiano SUP RACE, ovvero il SUP è lo sport dove si sta in piedi sulla tavola e grazie a una pagaia la sua propulsione si avanza. Le due giornate sono divise per due discipline, la sprint race del sabato e la long distance della domenica. La sprint race è una gara corta di 200 metri in cui a vincere sarà il più veloce. Nella long distance invece conta un po' più la resistenza perché si vanno a affrontare i più agonisti 9 km. Partecipate in tanti, saremo il primo giorno sabato all'interno del porto turistico in concomitanza con il grandissimo evento del Sottocosta, quindi venite lì, sarà la sprint race del sabato, poi ci spostiamo di fronte alla Lega Navale la domenica per la long distance.